La seconda giornata del campionato di eccellenza ha regalato una certezza al calcio erpino e il Cervinara di Pasquale Ferraro che con una vittoria sul campo della Rinascita Vico ha mantenuto, anche se solo alla seconda giornata, la prima posizione in classifica. Questo è il quadro della giornata con soltanto due pareggi, quello tra Santo Maso e Picciola e quello tra Nola e San Vito Positano. Vittoria sterne per Ebolitana, Sorrento e Cervinara, Casalinghe per Solufra, Battipaiese e Faiano. La classifica vede in testa, punteggio pieno, Cervinara, Sorrento, Ebolitana e Faiano. A seguire Nola e Picciola con quattro punti, Castel San Giorgio, Battipaiese e Solufra con tre, San Tommaso e San Vito Positano con due. La classifica si chiude con tutte le formazioni ancora ferme a zero punti. Bene l'Erpine in questo secondo turno con il Cervinara vittorioso per 2-0 in casa della Rinascita Vico, con i gol tutti nel primo tempo di Alessio Befi che torna in rete con la maglia della sua città ed il solito Rando Russo Lillo che di Furbizia sigla il suo terzo gol in campionato. Vittoria anche per il Solufra di Ciccio Messina che, dopo uno scialbo inizio di stagione con la sconfitta per 3-0 sul campo del Castel San Giorgio, trova i primi tre punti all'esordio casalingo con le retti tutte nel primo tempo di Del Grande sul calcio di rigore ed Arzeo. Stecca invece l'esordio casalingo il San Tommaso di Mario Silvestro. I Grifoni passano addirittura in svantaggio contro il Picciola recuperando il risultato solo sul finire del match con il gol del solito Pasquale Siciliano. Convincenti dunque le prove delle tre formazioni irpine nel campionato di eccellenza con il Cervinara di Pasquale Ferraro che si candida come l'outsider stagionale.